amici di milan punto soccer eccoci con un nuovo appuntamento dedicato all'informazione rossonera prima di cominciare come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale qui sotto fatelo numerosi e mettere un bel like un bel pollicione a questo video per esprimere il vostro gradimento e starci un po vicino a costo zero vi ricordo inoltre di dare un'occhiata sotto link in descrizione www.mila.soccer le opportunità per essere più che un tifoso più che un tifoso nei prossimi giorni ci saranno altre novità insomma seguite questo canale se vi fa piacere altrimenti grazie lo stesso va bene lo stesso questa la capiscono in pochi arriviamo alla questione di copertina però l'avete vista la copertina perfetto però prima di guardare al dettaglio della copertina mi sono fatto un giro un po di zapping si diceva una volta non so se fa boomer ma chi se ne frega ma mi son visto un po di sanremo un po di sanremo su youtube un po di immagine e ho visto diciamo così l'ingresso 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 di zlatan ibraimovic io caro zlatan ho capito qual è il tuo ruolo di brand ambassador di te stesso nemmeno del milan perché alla battuta di 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 amadeus bisognava rispondere un pochettino visto e considerato che sei molto più alto avresti potuto dire dall'alto dall'alto della nostra storia vi guardiamo e sorridiamo al vostro piccolo momento di fama e va bene facciamo così facciamo così andiamo alle cose serie alle cose che più ci interessano allora chi segue questo canale lo sa quello che mi fastidisce di più della società della c milan è la mancanza di comunicazione sì l'assenza come dire di quel modus operandi che nel campo sportivo è cosa naturale cioè rispondere a delle domande quando si fanno le conferenze stampa fanno delle domande che oggettivamente o sono preordinate oppure viene fucilato quello che fa una domanda fuori dagli schemi certo poi non lo invitano più questo è sicuro però perlomeno una domanda falla allora in questo periodo purtroppo noi assistiamo a questo dualismo tra le nostre due rivali storiche la juventus da una parte la nostra vera rivale e dall'altra la seconda squadra di milano che vive il suo piccolo momento di gloria e allora quando leggo i giornali escluso il corriere dello sport che si occupa esclusivamente di roma lazio napoli anche ieri ho visto quanti sono i tifosi o meglio i cantanti di sanremo che squadre tifano e allora primo posto ovviamente c'è il milan e poi seguono tutte le altre il corriere dello sport neppure questo ci dava come primato ma questa è una stupidaggine mentre per quanto riguarda le cose serie le altre due gli altri due giornali si stanno scontrando tra la gazzetta dell'inter e tutto juve di torino e quindi noi siamo un po lì in mezzo però non c'è non si perde mai occasione e questo un po la novità che a me personalmente mi lascia davvero senza parole ma io me lo posso permettere anzi senza parole fino a un certo punto perché poi accendo il canale parlo con voi che siete i miei amici rossoneri la stampa invece di milanello la c milan non dice una parola quindi lascia senza parole la società sta facendo come dire tendenza quelli giovani dicono trend una una questione e cioè quella relativa ai nostri ex giocatori ex calciatori ora lascio da parte la vicenda dollarumma e mi faccio e mi concentro esclusivamente su due nomi che proprio in queste ore su tutti i giornali hanno scritto e hanno detto e cioè charles de chetelare e l'altro c'ha la c'ha la cia la qualcosa che cosa c'ha c'ha la mamma no c'ha la no glu c'ha la no glu scusa grazie dalla regia e prego dicevo si sta parlando un po troppo di charles de chetelare e dice alla no glu io voglio fare il punto della situazione la vendita o meglio la il passaggio di charles de chetelare all'atalanta è stato il motivo per cui il braccio di ferro tra maldini e la società ha iniziato a ad esistere poi sappiamo come è andato a finire ora il fatto che lui faccia bene sta a significare che a noi ci daranno circa 23 milioni è vero l'hai pagato 35 ma insomma alla fine meglio di niente il concetto però un altro cari charles de chetelare e come si chiama c'ha la no glu non mi far sbagliare c'ha la no glu voi al milan avete fallito è inutile cioè non è che abbiamo mandato via due fenomeni quelle quattro volte che tu caro charles de chetelare che ora ce l'hai col milan e mi e mi domando perché sei sceso in campo ti sei incespicato col pallone davanti alla porta senza portiere davanti alla lina l'hai mandata fuori ora mi domanda e dico ma tu e l'altro che non mi ricordo mai come si chiama ma cosa volete dal milan che cosa volete dal milan quando c'ha la no glu giocava con i rossoneri e baciava la maglia come potete vedere in copertina lui lui era ciondolante ora ci sta ci sta ci sta che la colpa la sia debiti a un interlocutore che conosciamo cioè io posso capire che gasperini abbia ridato un po di sentimento a questo calciatore però quando è sceso in campo perché io non voglio adesso difendere pioli per intenderci però un po lo difendo anche perché quando tu sei sceso in campo e ci hai fatto prendere per il culo da tutti scusate la parolaccia io onestamente sarei stato il primo a dire vai a fare esperienza da un'altra parte e l'altro ancora è vero si sapeva che era forte ma da noi non l'ha praticamente mai dimostrato ora se voi per come dire riscattare il vostro fallimento state facendo bene nelle vostre rispettive squadre sarà che vi piace quel colore di m puntini puntini ma io sono contento per voi ma sul vostro curriculum dovete scrivere alla voce milan due punti fallimento voi al milan avete fallito e quindi gli organi di stampa che ora vi esaltano per distruggere ancora di più il milan e il milan lì muto muto io personalmente non lo riesco ad accettare ho voluto utilizzare uno dei tre slot di questo canale giornaliero per poter dire finalmente un una cosa che ho qui una cosa che ho qui grande decatelare grande decatelare avete visto come gli ha alzato la testa gaspedini ora sì che un cacchio di giocatore e l'altro il nuovo pirlo la gazzetta della sport ha fatto una pagina intera su un passaggio di cialanoglu cosa doveva fare con baggio l'enciclopedia ciao